Indovina, indovinello, che avventura si nasconde sotto il mantello? Preparatevi al divertimento, perché questa volta saranno Val Kilmer Batman, Tommy Lee Jones, Harvey Duefacce, Jim Carrey, l'enigmista, Nicole Kidman, dottoressa Chase Meridian, e Chris O'Donnell, Robin, gli eccezionali interpreti del terzo spettacolare episodio della serie Batman della Warner Bros. Joel Schumacher è il regista e Tim Burton il coproduttore di questa fragorosa corsa a bordo della Batmobile, del Bat aereo, del Bat motoscafo e del Bat sottomarino, sempre accompagnata dalle audaci acrobazie verbali dei protagonisti. Indovina, indovinello, che avventura si nasconde sotto il mantello? Preparatevi al divertimento, perché questa volta saranno Val Kilmer Batman, Tommy Lee Jones, Harvey Duefacce, Jim Carrey, l'enigmista, Nicole Kidman, dottoressa Chase Meridian, e Chris O'Donnell, Robin, gli eccezionali interpreti del terzo spettacolare episodio della serie Batman della Warner Bros. Joel Schumacher è il regista e Tim Burton il coproduttore di questa fragorosa corsa a bordo della Batmobile, del Bat aereo, del Bat motoscafo e del Bat sottomarino, sempre accompagnata dalle audaci acrobazie verbali dei protagonisti. Da non perdere